Salve a tutti, faccio questo video in merito a un commento fatto da Rising Sun sotto un mio video. Il video si chiama Serafino Massoni, coscienza sveglia, pensieri e considerazioni. Rising Sun ritiene in merito a delle cose che avevo detto nel video, cioè che tutti, in un paese comunque libero e democratico, come regola tutti abbiamo la libertà di pensiero e di parola, quindi ognuno può dire la sua, liberamente. E Rising Sun ha commentato così. Già cominci male, associando libertà di pensiero e democrazia. Non ha diritto di opinione chi non si informa, anche stando in una società democratica. Ricordalo bene. Allora, premettendo che comunque è sempre una sua idea, come io o la mia, anzi, vorrei appunto che si creasse anche un dibattito in merito, quindi mi ha fatto piacere che Rising Sun comunque ha detto la sua attraverso il commento, quindi tutti possono anche dire la loro, anzi mi fa piacere, perché il dibattito su degli argomenti è interessante, perché può anche far cambiare idea su delle cose che magari... quindi non è detto che io potrei anche cambiare il mio modo di pensare, come tutti, no? In un paese comunque libero e democratico, come dovrebbe essere, almeno io avevo detto nel video che attraverso un video tutti possono dire ciò che vogliono, no? Liberamente, finché poi non si viene tagliati fuori, tranne la democrazia, tranne in politica, no? Però la mia è stata più che altro una provocazione, inteso che comunque siamo, diciamo, in un paese democratico. Allora, stando a quello che ha detto, significa che, secondo lui, chi non si informa, anche se stiamo in un paese comunque democratico, chi non si informa, secondo lui, non ha diritto di opinione. Quindi, chi non si informa non ha diritto di opinione, nemmeno stando in uno Stato, comunque in un paese democratico. Allora, io vorrei fare più che altro, non so se è una domanda, no? No, vai, la posso impostare come domanda. E vorrei anche che magari anche qualcun altro potesse rispondere e dire la sua. Vorrei anche tirare in ballo il professor Serafino Massoni, anche Coscienza Sveglia e anche comunque chi vuole dire la sua, no? In merito sia al commento di Rising Sun, sia anche al mio. Nel più che altro volevo non criticare assolutissimamente, però volevo quasi porre una domanda, un mio interrogativo. Allora, noi siamo in Italia, un paese, diciamo, democratico. Ci sono i voti quando si va a votare, no? Quanti di tutta la popolazione che va a votare sono veramente informati e sanno cosa vanno a votare, chi vanno a votare, ma soprattutto perché vanno a votare. Io credo che se si raggiunge il 30% delle persone che sanno veramente per chi vanno a votare, io credo che sia già tanto. Quindi, secondo Rising Sun, hanno diritto di opinione, quindi io a questo punto credo l'Italia, un paese democratico, si va a votare, no? Perché un paese democratico si va a votare, tutti vanno a votare, quelli che possono andare a votare, chiaramente, e chi non è informato non può dire la sua. Quindi, inteso, mi fa pensare, anche attraverso il voto, perché anche se tu tracci una croce su un partito, su un politico specifico, eccetera, anche quella è un'espressione, cioè un'opinione, no? Quindi chi non sa, secondo lui, non ha neanche il diritto di voto a questo punto. Io chiedo, secondo voi è giusto questo? Nel senso, secondo me, ho detto, se si arriva al 30% delle persone che vanno a votare e sanno veramente il perché vanno a votare, secondo me il 30% è anche tanto. Io dico, adesso si parla dell'Italia, non è inteso. Quindi, secondo me è così. Per voi è giusto tutto questo? Fatemi sapere. Ma non sto accusando Rising Sun, non sto accusando nessuno. Vorrei proprio che si crassi, anche instaurassi un dibattito, no? Per vedere che... Poi, ognuno è libero, no? Io ritengo che la libertà comunque di pensiero rientra nella democrazia.